E siamo arrivati ai calci di rigore. Adesso contano solo cuore, nervi e testa. Duvan Zapata tirerà per primo. 1-0. Freddissimo alle spalle del portiere. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Kostic sta per calciare dal dischetto. 1-1. Freddissimo qui. Hanno pareggiato. Ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Che errore! Ma come ha sbagliato! E adesso è il turno del secondo rigorista. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Il divario tra le due squadre al momento è di un solo gol. Portiere spiazzato e palla dentro. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Tocca al terzo tiratore. Siamo a metà della lotteria dei rigori. Rigore da manuale, calciato alla sinistra del portiere. Ha tenuti i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Questo rigore potrebbe ristabilire la situazione di equilibrio tra le due squadre. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Il quarto rigorista designato si appresta a battere. Una parata fantastica! Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. L'ultimo dei cinque rigoristi si prepara a calciare. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione. E lui ce l'ha avuta. La Juventus deve segnare a tutti i costi. È il rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. E questo è il tiro che decide la partita. E si aggiudicano questa gara ai calci di rigore. È stata una partita davvero molto, molto sofferta. Ora però possono festeggiare. Invece la tua analisi di questa gara qual è Luca? Sono stati bravi. La lotteria dei calci di rigore. È qui che si scopre la stoffa del vero campione. Politano si fa avanti per calciare il primo rigore. 1-0. L'ha messa dentro con grande sicurezza. Rigore tirato alla perfezione. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere. 1-1. Freddissimo qui. È 1-1 adesso. È riuscito a riequilibrare l'incontro. Si prepara a battere il secondo rigore. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si fa avanti. Che errore! Ma come ha sbagliato? Tocca il terzo tiratore. Siamo a metà della lotteria dei rigori. Ha spiazzato il portiere. No problem! Ha preso la decisione giusta. Ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Il Napoli ha la possibilità di pareggiare i conti con questo calcio di rigore. Centrale ma potente! L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione. E lui ce l'ha avuta. Il quarto rigorista designato si appresta a battere. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Il Napoli deve segnare a tutti i costi. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. E ha un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. Deve assolutamente parare questo rigore. Colpisce il palo, clamoroso! Il portiere era battuto ma ci ha pensato il legno a respingere la conclusione. Da qui in poi si va d'oltranza. Un errore ed è finita. Il portiere intuisce la direzione del tiro. La palla però va in rete lo stesso. E questo rigore va messo dentro. Altrimenti il match è deciso. È dentro! C'è ancora speranza! Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Sistema la palla con cura sul dischetto. Ecco il settimo tiratore di questa roulette infinita. E questo rigore si perde sul fondo, incredibile! Ha colpito troppo sotto il pallone e l'ha mandato sopra la traversa. Neiret è l'ultima speranza della sua squadra. Parato! Mantiene in corsa la sua squadra! Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. Otto rigori non si vedono tutti i giorni. Palla da una parte, portiere dall'altra. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. Freddissimo! Non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Nono giocatore a portarsi sul dischetto. Spiazza il portiere in sacca. Rigore calciato con grande sicurezza. Deve averlo provato diverse volte in allenamento. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. Una parata che vale quanto un gol! Una partita durissima, in grande equilibrio. E alla fine ha vinto chi ha avuto il sangue più freddo. Gli avversari non hanno saputo gestire la tensione dei calci di rigore. Loro sono stati bravissimi a mantenersi calmi e concentrati fino alla fine. E adesso bisogna avere tutta la calma e l'esperienza del caso. È il momento più importante e decisivo, quello dei calci di rigore. De Vrel è il primo della lista. E questo non è certo il miglior modo per cominciare. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Ha preso la decisione giusta. Ha insaccato la palla nell'angolo opposto. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. E la palla è sul dischetto. Giroud sta per calciare il secondo rigore per la sua squadra. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Tocca al terzo tiratore. Siamo a metà della lotteria dei rigori. Portiere spiazzato e palla dentro. Rigore calciato con grande sicurezza. Deve averlo provato diverse volte in allenamento. Ha spiazzato il portiere. No problem. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Si fa avanti. Sarà il quarto tiratore della sua squadra. Nessun problema per il portiere. Se scegli una soluzione simile e il portiere non si muove, fai proprio una figuraccia. Occhi fissi sul pallone. Toccherà a lui tirare il quarto rigore. Il portiere intuisce la direzione del tiro. La palla però va in rete lo stesso. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. E questo rigore va messo dentro. Altrimenti il match è deciso. E' dentro. C'è ancora speranza. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere. E non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Un rigore che vale la vittoria. Non deve fare entrare questa palla o è finita. E non riesce a chiudere la partita. Chi calcia il rigore ha sempre più pressione addosso rispetto al portiere. E ora chi sbaglia ha perso. Grande parata. Grande il portiere. Anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. E ha un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. Consigli. E' l'ultima speranza della sua squadra. Non va. Manca l'appuntamento con la vittoria. Il portiere era battuto. Ma ci ha pensato il legno a respingere la conclusione. Terribile errore. Ma come può sbagliare così un calcio di rigore? Deve assolutamente parare questo rigore. Incredibile. Doveva pararlo a tutti i costi e c'è riuscito. Ha cercato di beffare il portiere. Ma il beffato è stato lui stavolta. Il terzo tiratore al tranza va a calciare. La mette lì, nell'angolo destro. Rigore tirato alla perfezione. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Qui non possono sbagliare. Se non entra hanno perso. La responsabilità di evitare la sconfitta. È tutta sulle sue spalle. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità. Responsabilità. Splendida parata. Grande intuito del portiere. Bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Consigli. È l'ultima speranza della sua squadra. E con questo tiro ha deciso la partita. Fa malissimo perdere. E fa ancora più male perdere dal dischetto. Sono mancati nel momento decisivo. Non è mai facile perdere i calci di rigore. Ma fa parte del gioco e bisogna accettarlo. Si gioca tutto dagli 11 metri. La distanza che può portare verso la gloria o le critiche. Gli allori o la sconfitta. Tenetevi forte. Questo è il calcio. Il dramma di questo sport. Allo stato puro. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. Sul palo. Qui il portiere è stato fortunato. È stata una questione di centimetri. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. E la palla è sul dischetto. L'Inter ha la possibilità di pareggiare i conti con questo calcio di rigore. Rete. Il portiere si è buttato dalla parte giusta. Non è riuscito a bloccare. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Il secondo rigorista si concentra prima di calciare. La piazza proprio al centro della porta. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione. E lui ce l'ha avuta. L'Inter è sotto di uno al momento. La piazza alla destra del portiere. Che freddezza. Rigore tirato alla perfezione. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Mamma mia. Guardate qui che parata fa il portiere. Grande intuito del portiere. Bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Ecco che si prepara a calciare il quarto rigore per la sua squadra. Si infila nell'angolo sinistro della porta. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo. Per il bene della sua squadra. Ha spiazzato il portiere. No problem. E così siamo sul 3 a 3. L'ultimo dei cinque rigoristi si prepara a calciare. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere. E non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Qui non possono sbagliare. Se non entra hanno perso. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. È dentro. C'è ancora Speranza. Ha preso la decisione giusta. Ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Da qui in poi si va d'oltranza. Un errore ed è finita. E questo rigore si perde sul fondo. Incredibile. Non ha controllato la direzione del tiro. Brutto rigore questo. Non deve fare entrare questa palla o è finita. I tifosi esultano per il gol che decide la gara. Che delusione tremenda questa. Certo conta anche la fortuna in situazioni come queste. Quando si decide tutto dagli 11 metri. Ma bisogna segnare. Grazie. Grazie.